Ciao a tutti e benvenuti. Questo è l'episodio numero 226 dell'italiano in podcast ed è la puntata di lunedì 31 maggio 2021. Buon lunedì quindi a tutti quanti voi, buon inizio di settimana. Per me è stato un giorno abbastanza pieno e impegnato. Spero che il vostro lunedì sia stato, ossia una giornata interessante, non troppo dura. Di solito il primo giorno della settimana, il lunedì non è molto amato dalle persone, neanche a me fa impazzire, però in fondo non è così male. Di solito è un giorno abbastanza produttivo per me, è il giorno anche del mio digiuno, quindi il lunedì io non mangio da molte settimane e così, da molti mesi e così, però devo dire che non è un giorno così antipatico come di solito si pensa. Bene, io sono ovviamente Paolo, per tutti quelli che seguono il podcast, questa non è una cosa nuova, ma per tutti voi che ascoltate questo podcast per la prima volta mi presento, io sono Paolo, sono un tutor di italiano, quindi seguo e aiuto alcune persone a fare pratica di conversazione in italiano, quindi durante la giornata ho diversi incontri con tutti quelli che studiano la mia lingua e vogliono mettere in pratica la teoria, cioè quindi provare a fare esercizio e quindi cercare di migliorare il loro modo di parlare e anche la conoscenza della lingua, ma attraverso appunto una conversazione con un madrelingua come me. Da ormai molti mesi ho iniziato a registrare questo podcast, sono 226 episodi, è iniziato il primo settembre 2020, quindi ormai è molto tempo che sono qui e sono qui con uno scopo preciso, come vi ho detto, quello di cercare di dare la possibilità di esercitare l'ascolto e la comprensione dell'italiano a tutte le persone che studiano questa lingua, quindi come tutor ovviamente ho una conversazione diretta con una sola persona, quindi dedicata in modo particolare a un solo studente, mentre con il podcast provo a raggiungere un po' tutti voi che studiate l'italiano e che avete bisogno di esercitare la capacità di ascolto e di comprensione, quindi il podcast è un metodo più generale, meno specifico, per provare ad aiutare tutti voi. E spero che questo modo di fare il podcast non sia noioso ma sia un po' interessante. Spero che la cronaca della mia giornata, cioè la descrizione della mia giornata e delle principali, il racconto delle principali notizie dall'Italia, tutto questo spero che sia un modo più interessante per fare questo esercizio. Io credo che sia un buon modo perché questo espone tutti voi, quindi vi mette davanti a un vocabolario più ricco, un vocabolario più comune a tutte le persone italiane che ogni giorno discutono, parlano, quindi parlare di una giornata di un italiano normale e anche delle notizie del giorno è un po' un modo per farvi entrare nella lingua quella viva, quella parlata davvero in modo più comune. La giornata è fatta di tanti piccoli impegni che tutti noi abbiamo, quindi questo è il vocabolario più comune e più utile anche, credo, da imparare. Ma, come sempre, inizio l'episodio proprio con la descrizione di quello che è accaduto in questo giorno, nel giorno in cui vi parlo, e poi passo a segnalarvi, a farvi notare alcune notizie più importanti. Non tutte, solo alcune, quelle che hanno occupato le prime pagine dei giornali, c'è quelle notizie che hanno avuto una visibilità maggiore, che un po' tutti quanti hanno visto e hanno letto nel giorno del podcast, nel giorno dell'episodio. E iniziamo anche oggi, quindi, a dare un'occhiata, insomma, a entrare nella giornata di Paolo. Vediamo cosa gli è successo oggi. Non molto, a dire la verità. Come ogni lunedì, ho fatto una conversazione molto presto, al mattino, una conversazione che c'è ogni settimana, sempre alla stessa ora, con una persona che conosce bene l'italiano, che ha una grande conoscenza anche della cultura italiana, sì. Posso dire anche questo. E devo dire che tutto il giorno è andato avanti così, quindi una serie di lezioni con delle pause tra una lezione e un'altra. Quindi fino alla sera, fino alle otto di sera, la mia giornata è stata praticamente fatta, costellata, ho usato questa parola altre volte, cioè è stata come caratterizzata, insomma, da tante lezioni, tante, beh, un buon numero di lezioni che mi hanno tenuto occupato fino alla sera alle otto circa. Quindi non ci sono state molte altre cose interessanti perché oggi è un giorno in cui non mangio, in cui faccio un digiuno. Questa è un'abitudine, come vi ho detto. Quindi non sono uscito per la colazione, anche perché il bar dove faccio colazione di solito è chiuso e non ho avuto molte occasioni di stare fuori. Sono uscito solo nel pomeriggio per fare dei piccoli acquisti nel supermercato vicino alla mia casa. Ma per il resto, ecco, come vi dicevo, ho avuto lezioni abbastanza regolarmente, insomma, durante tutta la mattina e tutto il pomeriggio. Quindi ho fatto sei lezioni con un intervallo di tempo più o meno di un'ora tra una lezione e un'altra. E se fate due calcoli, se fate un po' di conti, di calcoli, non è facile intuire che dalla mattina fino alla sera più o meno alle sette, alle sette e mezza, l'impegno, l'unico impegno del giorno è stato quello di fare queste conversazioni come tutor. Ho riposato ovviamente anche tra una lezione e un'altra, nella pausa più lunga, quella che normalmente è la pausa del pranzo, ma che oggi semplicemente è stata una pausa di riposo e nient'altro. Le mie energie non erano al massimo, non sono state al massimo. Non credo che sia colpa degli 80 chilometri che ho percorso ieri in bicicletta, perché, come sapete, come quelli che hanno ascoltato il podcast sanno, la bicicletta che ho usato è la mia mountain bike elettrica, quindi ho fatto un po' di fatica, ma non così tanta, solamente forse la fatica di stare fisicamente sulla bicicletta per quasi quattro ore, che può essere un po' stancante, anche questo, perché per la posizione, per la postura che si tiene quando si va in bicicletta, sicuramente dopo un po' di tempo, insomma, può essere un po' faticoso per il corpo, ma non è una grande fatica, diciamo, quindi penso che la stanchezza di oggi sia stata causata più da, un po' da una situazione di stress dei giorni scorsi, anche da l'impegno, insomma, che ho avuto già dal mattino presto, quindi non è dovuta a qualcosa di particolare, ma più a una condizione generale di questo periodo, insomma, ho rallentato molte attività con il blog, con la produzione di contenuti per il blog, proprio perché le energie non sono al 100%, non corro da ormai dieci giorni, quindi anche l'attività sportiva non è affatto molto impegnativa. Diciamo che in generale, appunto, la... in questo momento non sono in una grande forma fisica e forse neanche mentale, insomma, c'è un po' di stanchezza, l'ho detto altre volte, ma passerà. Nei prossimi giorni le batterie saranno di nuovo cariche e tornerò ad essere molto produttivo, come nel passato. Sono sicuro di questo. Serve solo un po' di tempo e un po' di pazienza. E spero che questa pausa, questo momento un po' più fatto di bassi, non faccia perdere interesse per il blog e per il podcast. Negli ultimi tempi i risultati di ascolto del podcast e di visite al mio blog era molto soddisfacente per me, ero molto contento e io spero davvero che tutto il lavoro fatto fino ad oggi non sia un po' perso, non vada perso in questo periodo, insomma, non troppo produttivo. Quindi spero che tutti voi continuiate a seguire questo progetto perché ho sicuramente tante cose ancora da proporre e spero di far crescere sempre di più il numero di persone che seguono il blog e che ascoltano il mio podcast. Quindi continuate a seguire per un po', abbiate un po' di pazienza. Presto le cose torneranno più interessanti, almeno spero più interessanti, come nel passato. Con il racconto della mia giornata è tutto qui, poi la sera ho cenato e ho riposato un po' prima di iniziare a registrare questo episodio. Non c'è stato niente di interessante, come vi dicevo prima, un lunedì normale, fatto di lavoro, di impegni, senza troppe emozioni e senza niente di speciale da raccontare. Vediamo invece cosa è accaduto in Italia. Le notizie non sono molte. Anche l'Italia ha avuto una giornata piuttosto normale e senza troppe emozioni, che in un certo senso può essere positivo. A volte, quando sui giornali ci sono notizie emozionanti, di solito non sono belle. La maggior parte delle volte sono brutte notizie. Ma oggi non mi pare che ci siano state notizie, per quanto riguarda l'Italia ovviamente, o nel mondo purtroppo ci sono sempre notizie un po' tragiche, ma mi pare che oggi in Italia non ci sia stato nulla di tutto questo, ma solo notizie molto comuni e senza troppe emozioni, come ad esempio questa notizia che riguarda l'economia. Beh, è una cosa positiva, non è una cosa negativa. Il presidente della Banca d'Italia, di Banca Italia, Visco, il governatore della Banca d'Italia, questo è il suo titolo, ha discusso una piccola presentazione sulla relazione annuale che riguarda l'anno 2020. Quindi ha presentato questa sua relazione sull'anno passato e ha parlato ovviamente un po' della situazione economica in generale. secondo i suoi calcoli, in realtà non i suoi, ma i calcoli o le stime, cioè le previsioni di Banca Italia, l'anno prossimo il nostro prodotto interno lordo, cioè praticamente la nostra produzione totale, la nostra economia, diciamo così, può crescere più del 4% e quindi avere un grande rialzo dopo questa crisi terribile del Covid-19. Sembrano buone notizie e tutto questo fa sperare bene per una veloce ripresa dell'economia nell'era post-Covid. Ovviamente spero che Visco abbia ragione e che anzi la sua stima, quindi la sua previsione, sia anche prudente, cioè non troppo ottimistica, quindi spero che poi la realtà sia migliore delle previsioni e presto potremo capire se è davvero così. Certamente gli aiuti dall'Europa saranno molto molto importanti per riprendere le normali attività economiche. Un'altra notizia di economia che oggi era sui giornali ed è abbastanza importante è quella che riguarda le autostrade italiane. L'azienda che gestisce la rete di autostrade italiane ritorna ad essere proprietà dello Stato, del Governo. Dopo un lungo periodo in mano a un'azienda completamente privata, le autostrade tornano ad essere pubbliche. La ragione principale è quella che riguarda le grandi proteste, le grandi polemiche che ci sono sempre state in questi anni sul modo di gestire questa rete del proprietario privato e in particolare dell'azienda della famiglia Benetton che è una famiglia molto famosa in Italia, una delle famiglie con interessi più grandi, con attività che riguardano molti settori dell'economia e anche alcune attività fuori dall'Italia. Quindi ci sono sempre state molte polemiche sulla gestione delle autostrade e soprattutto per la poca manutenzione, per l'aumento dei prezzi e in particolare dopo il crollo del ponte di Genova c'è stato davvero un momento di contestazione grandissimo verso Atlantia che è l'azienda privata che gestiva le autostrade e anche verso la famiglia Benetton che è la proprietaria di questa azienda. Quindi dopo il crollo del ponte Morandi di Genova gli italiani hanno detto basta a questa situazione che non amavano. La gestione è stata spesso contestata quindi era davvero arrivato il momento di cambiare qualcosa perché agli italiani non piaceva questo modo di prendersi cura delle più importanti strade italiane che sono ovviamente importantissime per la vita del paese. Quindi da ora in poi da adesso in poi insomma le autostrade tornano ad essere un bene pubblico gestito da un'azienda pubblica quindi con l'interesse con l'attenzione proprio del governo e con investimenti anche di questa cassa depositi e prestiti che è un'altra agenzia del governo italiano dello Stato italiano e che spesso finanzia aziende e progetti di grande importanza per l'Italia per tutta l'Italia. Un'altra notizia interessante di oggi riguarda questa piccola cerimonia in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato un'onorificenza a un personaggio italiano molto famoso Roberto Bolle Roberto Bolle è un ballerino di fama internazionale un ballerino italiano molto conosciuto qui da noi e anche fuori dall'Italia è ovviamente molto bravo e molto molto popolare perché ha spesso avuto anche una presenza sulla televisione è molto attivo sui social quindi è un ballerino di danza classica ma sicuramente è molto conosciuto un po' da tutto il pubblico italiano non solo dagli amanti della danza Roberto Bolle si esibirà al Quirinale fra due giorni per la festa della Repubblica il 2 giugno quindi prima di questa occasione il presidente Mattarella ha consegnato una delle onorificenze più importanti dello Stato italiano che è quella di grande ufficiale dell'ordine è una di quelle riconoscimenti di di quegli titoli che un paese dà ai suoi come dire personaggi più importanti ai suoi i suoi cittadini più famosi che hanno portato come dire prestigio fama e che hanno fatto un ottimo lavoro nel loro campo insomma tutti quei cittadini che rendono l'Italia un paese unico e rendono l'Italia un paese ammirato in tutto il mondo quindi per queste persone ci sono diversi tipi di riconoscimenti di onoreficenze si chiamano una di queste è appunto quella di grande ufficiale dell'ordine che Roberto Bolle ha meritato sicuramente il presidente Mattarella ha anche nominato 25 cavalieri del lavoro un'altra onoreficenza importante riservata a tutti quegli uomini imprenditori importanti che hanno fatto un lavoro buono che hanno dato un contributo molto grande al nostro sistema economico e che hanno anche ovviamente creato lavoro per tutti i cittadini italiani questa è l'ultima notizia che vi propongo fra quelle non covid non resta che dare qualche numero con il vaccino il numero di nuovi positivi è ancora basso più basso di ieri 1820 nuovi positivi molto bene un po' più alto il numero di vittime siamo 82 morti oggi troppi troppi nei giorni scorsi abbiamo fatto un po' meglio e anche il tasso di positività è un po' peggiorato siamo al 2,1% fra da oggi non fra da oggi ci sono alcune regioni che sono già diventate bianche mi pare anche per me questa è una cosa non completamente chiara ma in generale la tendenza è buona un po' in tutta Italia però nelle prossime settimane piano piano quasi tutte le regioni passeranno dal giallo al bianco e forse presto sarà anche la fine dello stato di emergenza vediamo speriamo e soprattutto mi auguro che arrivi presto quel giorno come dico sempre in cui vi dirò che ci sono stati zero morti a causa del covid un numero che invece deve crescere continua a crescere è quello dei vaccini siamo arrivati a 34 milioni e 800 mila persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e di questi 12 milioni hanno ricevuto il ciclo vaccinale completo quindi il 20% della popolazione è assolutamente immune non immune diciamo ma coperta da un vaccino contro il covid ottime queste notizie ottimo questo numero speriamo che prima dell'estate sia ancora più grande il progetto di vaccinarmi è un po' slittato per varie ragioni ma come ho detto ci sarà sicuramente un vaccino appena la situazione me lo permette appena trovo un po' di tempo per organizzarmi il mio stile di vita mi permette di essere ancora un po' rilassato in questo ma non bisogna essere troppo rilassati chiaramente però diciamo che il mio attuale stile di vita non mette a rischio me o altre persone in modo eccessivo quindi posso ancora fare questa cosa con calma senza troppa fretta ma la mia intenzione è quella di vaccinarmi assolutamente nel frattempo sembra proprio che ci sia che siamo quasi all'arrivo di questo pass di questa autorizzazione a viaggiare senza test senza controlli per le persone che hanno ricevuto il ciclo vaccinale completo quindi dopo 14 giorni dalla seconda dose di vaccino si potrà utilizzare questo pass europeo che permette insomma di viaggiare senza problemi senza quarantene senza fare test basterà mostrare questo certificato vaccinale insomma o un documento che viene che viene rilasciato che viene prodotto per tutti quelli che hanno completato il vaccino molti aspettano questa possibilità non credo che viaggerò quest'estate probabilmente lo farò dopo l'estate ma sicuramente sarà importante insomma vaccinarsi anche per poter fare qualche viaggio qualcuno è contrario qualcuno è d'accordo non ho una idea precisa su questo perché sono già deciso a fare il vaccino quindi per me non è troppo diverso ma per chi ancora ha un'idea contraria al vaccino per chi non vuole vaccinarsi ovviamente questa idea del pass può essere un limite non ho ancora un'idea chiara come ho detto su questa situazione probabilmente non mi piacerebbe avere questa situazione per sempre ma in questa situazione di crisi forse è necessario non lo so ma al momento non mi vengono in mente soluzioni migliori per gestire questa fase della crisi del covid vedremo cosa succederà nelle prossime settimane con questa notizia è tutto per oggi non resta che passare alle rubriche quotidiane e ancora una volta ho fatto lo stesso errore vi ho dato gli anniversari e i compreanni di oggi questo accade perché il podcast lo registro spesso a fine giornata mi scuso questo è ancora un problema di questi giorni insomma di questa non perfetta condizione psicofisica diciamo e questa stanchezza mi fa commettere qualche errore quindi ieri vi ho detto in realtà vi ho dato in realtà gli anniversari e i compleanni di oggi era un solo compleanno quello del maestro Paolo Sorrentino un grande regista molto famoso in tutto il mondo quindi non posso che rinnovare di nuovo gli auguri a Paolo Sorrentino ho riproposto sul blog tra le notizie più importanti insomma un articolo dell'anno scorso per il suo cinquantesimo compleanno quindi se siete interessati sul blog troverete al primo posto insomma l'articolo dell'anno prima per per il compleanno appunto di Paolo Sorrentino con lui è tutto per quanto riguarda la rubrica di compleanni e anniversari vediamo invece qual è l'aforismo del giorno quello è sempre diverso per fortuna non è mai uguale la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi è questa sono i dittatori che propongono soluzioni esaltanti e semplici per risolvere i mali del mondo una frase interessante di un personaggio contemporaneo quindi scoprite voi di chi si tratta se di un'autrice o di un autore e soprattutto scoprite qual è il lavoro di questo personaggio e qual è la sua la sua opera insomma cosa ha fatto di interessante nel suo campo e con questa frase chiudiamo anche l'episodio di oggi di questo lunedì 31 maggio 2021 vi do appuntamento a domani martedì primo giugno e vi auguro di nuovo una buona settimana una settimana produttiva felice piena di emozioni ma per il momento vi saluto sono un po' stanco come ho detto molte volte oggi vado a dormire e ci ci sentiamo presto quindi un saluto e ciao a tutti ciao a tutti